Benvenuti a tutti i telespettatori all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande perciò se ne avete mi raccomando il 3498275983 a vostra disposizione come ogni mercoledì a darvi risposta ci sarà il buon Giovanni Lapidari trader indipendente, analista, formatore, chi più ne ha più ne metta buongiorno Giovanni attenzione, attenzione, siamo in tinta Giovanni, guarda qua siamo uguali, incredibile ti ho scritto nel messaggio stamattina, sono tornato in fretta e furia da quell'impegno che ti avevo detto ho preso la prima cravatta che c'era sei parati alla nascita Giovanni, è uguale, è pure gli stessi pallini non voglio chiederti la marca per non fare pubblicità ma secondo me siamo lì dai bando alle ciance che siamo già partiti tardi, il punto di giornata e poi domande prego ma sai non è che ci sia molto da dire, nel senso che c'è stata la scadenza derivata i regolamenti ciclopici oltre 5 mila miliardi di opzioni soltanto sull'SP500 mercati azionari che hanno chiuso la scadenza importante dopo le riunioni delle banche centrali in linea, come non era difficile prevedere, le statistiche direbbero questo, con ciò che si era visto il mese precedente i bond continuano ad allungare, sulle borse l'OPE qualche presa di profitto perché i dati soprattutto dalla Germania continuano a non uscire bellissimi ci sono le trattative poi sui patti di stabilità l'America continua ad essere un po' il faro soprattutto perché pesantemente, direi anche in maniera illogica ma la logica nella finanza non abita trascinata dai titoli a grande capitalizzazione che poiché hanno anche requisiti ESG sono comprati dai fondi quantitativi che continuano a comprare i titoli grossi perché la volatilità è bassa per cui è un mercato che in maniera al limite dell'ignobile ma noi non siamo qua per far filosofia ma semplicemente per accattare due spiccioli continua a essere rialzista sconfiggendo tutti i pessimismi gli snobismi gli scetticismi dei tanti operatori privati ma non solo che quest'anno hanno avuto difficoltà un anno comunque difficile per centrare anche un po' le tendenze le previsioni sia sulle azioni che sui bond le azioni dovevano scendere a gennaio sono salite per 7 mesi i bond dovevano salire e sono scesi come dei pazzi su questo rimbalzo c'era molto scetticismo e tutti hanno detto un window dressing lo sistemano invece è stato un window dressing che probabilmente fonda questa scommessa su un'ulteriore scommessa cioè che le banche centrali diventeranno ancora più buone di quello che hanno lasciato intravedere è una scommessa non sappiamo come va a finire certo non la possiamo prevedere le materie prime parlavi prima delle valute e anche in parte del mercato appunto dell'oro dei beni rifugio risente un po' del dollaro finché il dollaro è debole l'oro te lo comprano ma è chiaro che la concorrenza dei bond come prezzi delle azioni come price earning e comunque come guadagno in gain e i rendimenti che i bond danno che comunque sono più bassi perché avevamo BTP a 5 adesso abbiamo a 3,6 possono fare lo stesso una buona concorrenza su un mercato quello dell'oro che risente troppo del dollaro e anche di una mancanza intrinseca di trend per poter fare qualche cosa devo dire sinceramente sono giorni dove i volumi ovviamente sono calati anche in misura sostanziosa meno 40% rispetto a quelli della scorsa settimana è chiaro che siamo in un periodo pre natalizio aggiustamenti di portafogli ma non credo che nessuno fra gli investitori saggi sia quelli con i soldi che quelli che magari lo fanno in forma più privata abbia voglia di prendere grandi posizioni è chiaro che il 2024 anno bisestile anno di elezioni anno con le borse che hanno già relato tanto per cui Goldman Sachs e tutte quelle persone che io e te prendiamo così nelle loro previsioni un tanto al chilo stanno continuamente rivedendo il loro target perché un target è di 5 mila nel 2024 dato dalle maggiori case di investimento su SP500 a 4.768,37 parliamo di quanto spazio ancora c'è quindi tutti a inseguire il trend tutti a comprare perché hanno paura di rimanere fuori tutti gli analisti a rivedere le previsioni c'è un clima di grande euforia che però parliamoci chiaro può piacerci non può piacerci può essere giustificata oppure no possiamo vederla con ragionevoli dubbi visto l'economia i numeri che dà soprattutto in Europa però non siamo qua per fare filosofia ma siamo qua per portare a casa due spiccioletti la filosofia la possiamo lasciare ai tanti commenti sulla realtà quotidiana fra cui restando in campo imprenditoriale anch'io che come noto non difetto Diego ho voluto dire la mia l'affare del giorno non sono i mercati ma è lo scandalo ammesso che lo si possa chiamare tale della Chiara Ferragna ma quella è arma di distrazione di massa sì esatto ma gli imprenditori dovrebbe insegnare qualche cosa e visto che noi facciamo borsa e le aziende che fanno pubblicità eccetera eccetera bisogna stare tra qui però questo è gossip è roba veramente per la gente che non sa cosa fare nella vita noi siamo qua quello è per spostare l'attenzione su altre cose bravo perché siamo andati con una fregata a fare la guerra nel Mar Rosso senza che nessuno lo sappia però va bene dai dai partiamo buongiorno Emig posso avere i livelli di Eni e ISP grazie a Mitici dai 3498275983 Eni Eni c'è un bel supportino vicino che è la media mobile a 200 giorni c'è un supporto dinamico che si va a incrociare anche con i minimi dei primi di ottobre in area 14,30 ha una resistenza chiaramente sui massimi recenti di 15,39 poi poco di sopra c'è un livello un po' strano che non si vede facilmente nei grafici ma ci passa la roba che è 15,45 a me il titolo sembra ben supportato Eni e Long in tanti portafogli a 13,5 che è un supporto pazzesco non c'è neanche conferme di media mobile in realtà la mano primaria è entrata verso luglio di quest'anno con i ritracciamenti in area 13 13,26 la media mobile fu superata il 12 di luglio in area con un gheppettino un po' richiuso ma comunque molto importante i classici gheppi di partenza in area 13,27 il 12 la tendenza mi sembra interessante anche se non va negato che il titolo sta perdendo un po' forza anche sui principali indicatori che vedo per cui comprarla a questi livelli sinceramente non lo so perché mi sembra un bel long ma che abbia bisogno di rifiatare un po' più in basso in area 14,14,5 mi piacerebbe di più verificare un eventuale intervento per quanto riguarda intesa San Paolo le banche sono un po' state vendicchiate già a partire dalla scorsa settimana intesa in area 2,68 e poi 2,64 ho un po' sentito questi prezzi non che oggi sia molto lontana dal 2,64 al 2,65 di certo la rottura di 2,677 mi fa vedere delle azioni di alleggerimento c'è proprio un doppio massimo quello del 5 dicembre poi quello dell'apertura della brutta giornata del 14 è un titolo molto bello se lo guardiamo in una tendenza di lungo termine però non dimentichiamoci che intesa al netto degli stacchi dividendi e tutto il resto stava a 2,6 e qualcosa il 3 di marzo di quest'anno quindi in realtà la performance del 2023 è tutta dei primi due mesi perché poi il resto dei mesi li ha fatti facendo comprare volatilità ai suoi sottoscrittori non è scesa più di tanto ma ha avuto qualche momento di lieve sbandamento caratteriale adesso è ancora in una posizione buona la media mobile a 200 giorni passa a 2,5 lì passano anche delle trend line i supporti sono abbastanza lontani ma mi sembra un po' stanco per cui anche in questo caso la mia idea è quella di pensarci un po' di più del solito se vogliamo comprare intesa a questi prezzi molti titoli a questi prezzi cominciano a non essere cari chiaramente tutto in funzione del tempo ma sono forse un po' bisognosi di chiamare altri acquirenti un po' più in basso perché comunque su intesa i volumi al di là della fase di rollaggio anche questi nella settimana che stiamo passando adesso sono veramente molto molto bassi penso che qualche decisione se uno la vuole prendere sia da rimandare obbligatoriamente a inizio anno dopo la Befana perché magari inizio anno sarà ancora abbastanza lunga abbastanza forte per i mercati nazionali questo è quello che mi aspetto che penso poi può darsi che cambieremo magari alle 4 di oggi pomeriggio quello che voglio il messaggio che ogni tanto anche io cerco di lanciare che qua a queste condizioni le analisi sono così fra 5 minuti se salta fuori qualcosa che cambia tutto cambiano tutte le analisi e quindi dovete sempre essere pronti a elasticità mentale e cambiare sempre il trader o fa così o si aggiorna si rinnova sai la difficoltà del nostro lavoro come investitore come trader e anche noi come commentatorialisti che nella vita e tutti i giorni reputiamo giustamente che la coerenza sia un valore importante a noi non piacciono per me la coerenza è molto importante però su alcuni aspetti non su tutto quanto nel mondo degli investimenti la coerenza può andar bene dal punto di vista delle strategie ma per altri aspetti la coerenza è qualche cosa da maneggiare con cura perché rimanere ostinati nelle nostre convinzioni è un segno forse di forza ma a volte di debolezza perché se il mercato ti va contro hai voglia di essere coerente devi purtroppo abbandonare le idee su cui hai coltivato magari altri tipi di sogni ecco buongiorno amico complimenti per la chiarezza espositiva grazie mille la 2A sta testando il supporto di 1,88 e 9 potrebbe rimbalzare grazie Giovanni da Pisa andiamo a vedere la 2A che l'abbiamo lasciata un attimino lì ferma dopo un momento dove sembrava trascinasse tutto il comparto delle utility era la numero 1 adesso che succede su A2A? adesso succede che il titolo che aveva rotto i massimi del sta proprio lavorando a 1,9 rotondiamo sui massimi di metà settembre da quale aveva fatto una discesa molto molto importante da 1,9 a 1 a poco più di 1,6 1,62 1,63 da lì poi è ripartito ha breccato in maniera decisamente ragguardevole e robusta anche con buoni volumi il 16 novembre non i più alti in assoluto i più alti in assoluto sono quelli del 14 novembre la giornata si è chiusa molto alto 5,6 il 16 novembre ha rotto questi massimi li ha ritestati con una discesa da prese di profitto martedì 12 dicembre è risalita a 2 non ci vuole andare e adesso sta scendendo ieri è scesa oggi è scesa venerdì è scesa tutta la scorsa settimana è stata di discesa c'è un evidente alleggerimento della presa di profitto probabilmente si giudica che le utilities anche con queste storie mercato libero non mercato libero eccetera possono aver già dato tanto il mercato non privilegia la difensività sui portafogli perché nessuno vuole le put e quindi non compra più di tanto titoli difensivi che hanno veramente dato le grandi soddisfazioni cioè non dimentichiamoci che a 2A a marzo cioè 9 mesi fa stava a 1,30 ce la siamo vista arrivare a 2 per un utilities è veramente tanto è veramente molto quindi ci sono delle prese di profitto e delle rotazioni settoriali a mio parere un bel supporto è tutta l'area 1,8 1,78 1,75 lì si potrebbe provare considerando che c'è a 1,71 e richiama ai massimi del 16 maggio 2023 qualche istanza di acquisto ma ai livelli tecnici tu mi insegni che valgono nella misura in cui poi dobbiamo contestualizzarli con l'andamento del grafico dire quel prezzo secondo me è un prezzo dove il mercato comprerà è una forte struttura mentale il prezzo magari te lo vedono tutti non è detto che a quel giorno o quando verrà toccato darà luogo a delle intenzioni di acquisto perché bisogna vedere la lontananza dai massimi del grafico in caso di ritracciamento ribassista e tutta un'altra serie di cose per cui guardiamo a 2A fra 1,79 e 1,72 ma guardiamola prima poi di prendere eventuali decisioni a questi prezzi sta scendendo scende con poca volontà di comprare non acquisterei a 2A assolutamente Buongiorno Emerick grazie per i consigli che date vorrei entrare su Continental mercato tedesco e Inwit che pensate è il momento giusto grazie di tutto buona giornata e buone feste Maria Rosaria da Latina che salutiamo allora cominciamo con Continental facciamo un bel viaggio in Germania che dici? titolo certamente l'abbiamo già 76-75 circa oggi fa più 0 quasi l'1% titolo fortissimo è che Continental ha valicato in area 62 circa l'8 di novembre la media mobile a 34 giorni ha valicato la 200 a 67 il 14 di novembre oggi lo abbiamo a 76 venivamo da 60 quindi ha fatto un 25% un titolo legato all'automotive quindi un titolo legato anche alla ciclicità del mercato è forte mamma mia se è forte è fortissimo è da comprare a questi prezzi lapidari parere opinabilissimo a questi prezzi non comprerebbe Continental a meno che questa salita del mercato che sta facendo il prezzo del titolo sia da intravedere come una salita all'interno di una fase di rialzo voglio ricordare che Continental all'8 di marzo di quest'anno stava a 79 adesso sta a 76 è un altro titolo che come quelli che abbiamo visto prima tipo intesa ha fatto la performance i primi 2-3 giorni poi ha passato tutto il 2023 facendo ping pong fra l'area arrotondiamo 80 anche se non l'ha toccato e dei bei minimi in area 61 60 adesso siamo a 76 se dovesse riproporre questo scenario anche per il 2024 Continental adesso non è da comprare da comprare a 67 se ci tornasse adesso sinceramente non acquisterei questo titolo in termini supporti il primo supporto interessante su Continental è 73 poi c'è un altro a 70 poi c'è il 67 2 dove passa la media mobile a 200 giorni Inuit è una situazione diversa è un grafico un pochino più promettente ha ritracciato meglio sta cercando di trovare delle conferme sopra 11.29 sono arrivati nuovi degli acquisti il supporto è 11.16 e la media mobile a 200 non metterei gran soldi però la situazione grafica di Inuit mi piace enormemente più di quella di Continental perché il titolo sta uscendo da un megafono molto interessante ora graficamente non abbiamo il tempo di poterlo fare ha una prospettiva ideale di fare un 2024 dove possa arrivare in area 13 allora se lo compriamo a 11 in area 13 ci sono due punti il rapporto rischio rendimento non è bellissimo perché questi sono tutti i titoli che ci sono un po' scappati via a 10 11 era più carino da prenderlo quindi dove lo mettiamo lo stop a 10.5 siamo a 11 e qualche cosa quasi 11.5 sono due punti 13.5 è un rapporto rischio rendimento 0.9 a 1 1 a 1 non è gigliatissimo però potremmo vedere anche di peggio in questo caso pochi soldi visione molto lunga stop larghi è quello che farei io allora buongiorno super volumi su Grifal scambio di pacchetti lo andiamo ad analizzare dopo il break caro Giovanni Lapidari un paio di minuti e torniamo subito allora andiamo dunque a vedere questi pacchetti che mi scrive il nostro telespettatore su Grifal sì stai sta scambiando bene 260.000 euro un calo dell'1 e 32 però dai non mi sembra sono tanti per Grifal effettivamente perché solitamente non ne ha così tanti però insomma non ci può stare oddio Emerick la media mobile dei volumi degli ultimi tre mesi è 4.484 e allora forse c'ha ragione il nostro telespettatore qualcosa si sta muovendo io da quello che vedo fino a 15 minuti fa ne ha scambiati 116.000 sì in questi ultimi proprio 10 minuti no quando è che ha fatto no no prima prima perché poi è andato sì sì però 9.40 9.50 ci sono stati questi scambi così però sai che forse ha ragione il nostro telespettatore questa è una cosa da guardando i volumi temo di sì devo approfondirla devo approfondirla no l'avevo presa sotto gamba però hai fatto bene a a riprendermi caro il nostro lapidari no no è che non si può stare non si può stare dietro a tutto c'è da dire anche una cosa questo è proprio è America non so come la vedete ma al di là di se guardi il grafico daily di questo di questo titolo beh insomma ci sono tante sedute senza scambi no dove sì sì è sottile assolutamente è un titolo è una bella società a me non dispiace però anche lì ha avuto ogni tanto insomma un po' di momenti di difficoltà anche perché loro lavorano il cartone c'è stato un aumento esponenziale dei prezzi della carta ti ricorderai bene quando lo raccontavamo un po' di mesi fa e quindi però il business era venuto a raccontarcelo Gritti una volta da noi in trasmissione a me non dispiace lui insomma ha ben chiaro dove vuole arrivare no no però sì il titolo di certo non va di pari passo con le aspettative speriamo che questi che questi problemi di conflitti bellici che toccano il canale Suez che stanno facendo circunnavigare le navi anche Panama attenzione perché abbiamo i problemi anche su Panama dove là non piove c'è il livello basso e quindi no ed è per quello che quando io facevo il discorso ieri sul VIX del fatto che gli operatori prezzassero solo gli scenari migliori e non tenevano in considerazione tante piccole cose che per ora sono diciamo brace sotto la cenere speriamo che rimanga brace sotto la cenere però il rischio che comunque ci sia una fiammatina c'è non diventiamo però prego c'è tanto consenso detto questo Grifale c'ha delle vendite a 2,35 poi abbiamo delle resistenze a 2,55 il titolo è sottile graficamente anche la carenza di candele piene perché c'è tante candele proprio senza scambi che quindi chiaramente sul grafico apertura minimo massimo chiusura vanno tutti a fondere su un unico prezzo l'attendibilità di una mia analisi evidenza forse anche dei miei limiti ma mi lascia un po' il tempo che trova sono titoli che giustamente come hai detto te compra chi conosce chi conosce bene l'azienda chi ha capito che quel business ha delle prospettive sono forse nuovi titoli da cassettisti questi magari ne compri 10 questa è una bella domanda bravo ne compri 10 con una 5 come vanno e 5 sono la penny stocks incredibile capisci può essere anche questo no che poi non vorrei abbassare con questo ragionamento il livello del lavoro di quelli di Grifale perché assolutamente però effettivamente sul growth ma se vai andiamo a vedere i fondi quando operano sul growth fanno così te ne comprano 10 tra una selezione che fanno e magari 8 perdono ci sono quei 2 che ti rifanno tutto il portafoglio diversificazione come ci insegnavano da giovani caro il nostro Giovanni senti andiamo avanti comunque teniamo d'occhio Grifale grazie per avermi messo la pulce nell'orecchio al telespettatore buongiorno sono particolarmente legato ai valori affettivi alla banca MPS anche perché borsa e questioni affettive non vanno ben d'accordo per questo sono andato a vedere sul sito su cui io apri in borsa il valore massimo rettificato al tempo il 25 2007 era di 193 euro o 193 mila euro ciò vuol dire che una persona che aveva investito allora un milione di euro si ritrova adesso con un valore arrotondato di circa 5 azioni da 3 euro se c'è un errore nel valore del sito sbaglio forse qualcosa beh no ci sono stati tanti aumenti di capitali iper mega super diluitivi quindi ora spandometricamente non ho idea se il conto sia giusto però non penso che non lo so bisognerebbe fare il conto però ci sono stati tanti aumenti di capitali diluitivi quindi ci potrebbe tranquillamente stare va bene vorrei un paese fin cantieri inoltre non ho capito quali rischi si corrano con i titoli poco scambiati small cap intendo con aziende sane si rischia di vendere un titolo a un prezzo molto inferiore rispetto a quello evidenziato al momento se si vende al meglio Aldo da Parma no Aldo la questione legata alle small cap è legata alla liquidità cioè se tu entri però non è tanto per noi piccoli retail è quanto per gli investitori istituzionali che se questi entrano magari in sede di IPO su una società piccolina poi non gli piace devono liquidare la posizione o chissà altro quando vanno sul book per liquidare la posizione si vedono un book totalmente rarefatto dagli ordini magari in acquisto che sono quelli che poi bloccano come dire o rallentano le vendite quando uno deve vendere quindi se arriva al grosso istituzionale ti mette il suo blocco da centomila pezzi sul book le rende al meglio e il titolo crolla ti va in sospensione eccetera eccetera ed è quello il vero problema che abbiamo sul growth poi basta poi cosa è che mi chiedeva Fincantiari Fincantiari vai Fincantiari che non è un titolo certamente growth ha sentito moltissimo la resistenza del 50% di ritracciamento guarda come a volte è precisa la grafica Fincantiari ha toccato un massimo a metà febbraio credo fosse il giorno di San Valentino il 14 0,66 è qualcosa ha toccato un minimo il giorno 25-26 ottobre a 0,45 ha fatto esattamente l'altro giorno il 7 di dicembre un doppio massimo con l'altro massimo del 15 novembre che sono esattamente centesimo più centesimo meno a 0,5590 che è la metà di recupero adesso sta lì sul 38 non è che noi facciamo apologia di Fibonacci è che questi numeri queste percentuali hanno un senso all'interno di una matematica un pochino più comportamentale e il titolo fa però fatica a superare il 50 sta provando a consolidare fra 0,5320 e 0,5220 52 sì e 30 dove passa anche la media mobile a 200 giorni quindi c'è molta lateralità compressione di volatilità in calo da fine novembre a oggi titolo che ha fatto un recupero dopo un 2023 non brillante ma sto recupero si è già fermato se uno vuole comprare fin cantiere adesso deve avere una logica da cassettista a differenza del grow che quando va a vendere magari dopo 3 anni non ha detto che trovi sempre degli spazi qui i volumi e la liquidità c'è ma dovessi definire che questo titolo è forte no ma non ha neanche quella debolezza che mi inviterebbe a comprarlo perché vedo che scende ma ci sono delle divergenze su copie indicatori su volumi su indicatori vari dove allora uno dice aspetta c'è qualche cosa che mi piace qui al momento attuale soprattutto penalizzato dal fatto che quota 0 virgola e molti indicatori che so ne prendo uno il McLellan non abbiamo mai parlato ma c'è anche quello che ogni tanto da osservare serve soprattutto sull'indice per fare la media pesata dei titoli che salgono da quelli che scendono e tirare fuori delle conclusioni non si muovono quindi anche un titolo graficamente molto leggibile ma usare gli indicatori per prendere delle decisioni qui è un po' molto meno facile mi asterrei da operare su fincantieri fino a che non vedessi una discesa dove vedo degli acquisti sulla debolezza che in questo momento non vedo sulla relativa forza vedo delle vendite e quindi questo non è una cosa secondo me positiva attenzione alla perdita di 0,5 secco come prezzo non sarebbe una bella cosa resistenza 0,58 nel caso si progredisse da qui a tre settimane allora buongiorno innanzitutto complimenti per la trasmissione che è sempre molto interessante il servizio che fate per tutti è importante grazie mille allora continuo a essere short su Ferrari con l'obiettivo di arrivare a chiudere tra l'altro uno mi ha avvertito telecom sospesa adesso la vado a vedere eh sì sospesa ragiona adesso poi andiamo a lavorare anche su telecom comunque prima short su Ferrari con l'obiettivo di arrivare a chiudere i gap lasciati aperti nella salita in particolare il primo a 305 che ne pensa il bravissimo lapidari approfitto per augurarvi buone feste a me lo shortino su race non dispiace per niente anzi ma non è per caso senti Emerick non ho la memoria ma non è per caso il collega che ci ha già scritto la scorsa settimana parlandoci proprio di questo short su Ferrari oddio può essere perché io guarda adesso ho un vuoto di memoria ma io ricordo che ah sì c'era uno short ora non mi ricordo sì ordine short per me il valore oramai lui credo che fosse short da di 16 novembre dal 16 novembre da 330 guarda 330 329 mi ricordavo 330 risalendo i messaggi al 16 novembre mi aveva mandato uno sui short 330 e sta facendo bene è un gran bel short complimenti devo essere sincero da 330 è stata un'operazione anche rischiosa perché gli è andata oltre 345 quindi forse lui ha arrotondato qualche cosa in alto ah però aspetta non hai detto che magari non l'ha preso sulla discesa fammi vedere il 16 dov'è ah no il 16 novembre no no gli è andata proprio contro ha tenuto guarda dal punto di vista della resistenza mentale veramente 10 lode per aver tenuto un'operazione del genere che poi ci sia da chiudere quel gap che lui dice quello che è tra il primo e il tre novembre ma io appunto direttamente sui 300 anche io sono short beh devo dire sinceramente se ha una buona protezione in termini trailing stop che io metterei non dico sul prezzo di carico ma anche a 327 è un'operazione da proseguire dove possono essere gli ostacoli 305 prima ancora 307 poi il numero tondo di 300 preceduto da un 303 perché dice un gheppettino da chiudere e poi c'è a 300 che è tondo ci sono anche i massimi che Ferrari ha fatto tra fine giugno i primi di luglio lì c'è un numero tondo e c'è anche il valicamento di un altro massimo simile a quello di 300 fatto a metà ottobre che è stato poi rotto con una candela con forti volumi e la candela del giorno 2 novembre io credo che quel 300 sia il luogo dove chiudere tutta un'operazione short questo è quello che farei io se andassimo che oggi siamo a 314 se andassimo a chiudere l'anno area 310 intanto io incasserei qualche profitto che l'anno nuovo non si sa il target di 300 è raggiungibile se mi chiudo a un eventuale 310 allora lo stop si mette a un 3% lontano dal prezzo quindi si ragiona su una volatità del 3% si mette a 320 questo è quello che farei io complimenti per l'operazione azzeccata non sarei stato capace di farla che comunque il mercato sta premiando e quando il mercato ci premia non è mai fortuna bravo va bene c'è un'altra telepettativa che mi dice ti seguo da quando facevi la pubblicità con i Bermuda è vero questa è una roba del 2008 2009 che era l'idea era praticamente no vabbè bisogna vederla però è vero grande grande quanti ricordi buongiorno potre e noi già ci conoscevamo lapidari ai tempi quindi veramente due carriati di oramai buongiorno potrei gentilmente avere un'analisi di Telecom è certo perché Telecom è andata anche in sospensione andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo su Telecom la vado a cercare subito allora siamo a 4,29% sospesa per cesto di rialzo sì sì chiaramente assolutamente oggi è partita c'è la notizia c'è la news c'è il fatto che il fondo F2I vuole affiancare KKR nella rete e quindi vuole dare i soldi alla network quindi tutti dicono allora si chiude però io sommessamente piano piano zito zito alzo la mano e dico guarda che quelli di Vivendi hanno fatto ricorso in tribunale quindi la situazione ancora secondo me è da vedere però Telecom basta vogliono chiudere sta partita gli investitori e vedremo se si riuscirà la candela di oggi è sicuramente imperiosa in termini di allungo i volumi chiaramente non sono quelli da ricordare di venerdì 15 dove ci fu una candela con molto range un po' rifiuto di prezzo ma comunque chiuse verde poi la candela del giorno dopo di lunedì ha superato la media mobile a 200 periodi e ha chiuso su un ritracciamento del 50% fra i massimi e i minimi di quest'anno sono i massimi e i minimi di quest'anno grossomodo poi c'è un massimo lievemente più elevato ma non confermato in chiusura quello del 6 di marzo stiamo passando a 0,2917 il 61,8 di Fibonacci di ritracciamento di questa escursione settembre dicembre qui sembrerebbe che il titolo abbia voglia di salire una sospensione per eccesso di rialzo lo certifica anche perché Telecom non è che di sospensioni per eccesso di rialzo e la sua storia ne ha avute tante le ha avute forse a volte per eccesso di rialzo però è un titolo un po' guida del nostro listino quindi sarà un titolo guida del nostro listino sospeso così vuol dire che ci sono delle manovre stiamo arrivando alla fine dell'anno è chiaro che c'è un po' di cerchiamo di trovare una quadra ecco qualcuno si domanda che dire un bello strappo vediamo cosa succede perché è una sofferenza Telecom se la sistemano in qualche modo siamo tutti più che contenti ecco sì bello strappo effettivamente bella rottura dei 02830 bella accelerazione niente da dire a livello tecnico cercando di interpretare tutto il nervosismo del grafico che non è poco però dai buona situazione diciamo situazione molto migliore rispetto a tante altre su Telecom che abbiamo già visto nei mesi sì decisamente buongiorno buongiorno sono richiedevi un punto di ingresso su Snam Eterna grazie Emanuele Snam punto di ingresso su Snam Snam considerando quanto sta facendo fatica a superare area 4,73 e dove il 14 dicembre scorso giovedì scorso ha sentito ha provato a farlo a lungo ma in chiusura è stato respinto dal media mobile da 200 giorni il punto di ingresso a mio modo di vedere deve essere situato un po' proprio un basso per Snam vale probabilmente il discorso che abbiamo fatto anche su A2A ovvero la configurazione grafica di A2A è tutta diversa da Snam però le utilities stanno un po' e non da oggi incassando i profitti e cercando di trovare una quadra segnalerei e suggerirei di mettere un'eventuale allarme in zona 4,59 circa ci passa della roba trendline media mobile tutto il resto 4,55 un altro livello da non sottovalutare e un altro è 4,48 circa un po' sotto il 4,5 quelli possono essere dei punti non è d'ingresso vale anche quel discorso non è che i livelli sono automaticamente lo tocca si compra lo tocca si viene no sono livelli di osservazione di contestualizzazione del come il titolo è arrivato e magari anche perché è arrivato su certe zone io li definirei livelli di attenzione lavorare con attenzione è il contrario di lavorare con impulso è un lavorare più logico sicuramente non può farvi che bene questa è come la vedo resistenze mi sembra che la zona 4,8 e la zona 4,85 e poi anche un massimo un po' sparicchiata 4,96 5 c'è un gap chiuso tra l'altro siano in sequenza dei livelli da osservare come resistenze e si faranno sentire anche nel caso qualora quantunque semmai di un progresso nelle prossime settimane c'era un altro titolo Terna scusami Terna 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 Eterna giustamente copiata l'incente idem con Patatini anche lui un po' indebolito è un po' un settore che in questo momento il mercato sta ruotando in realtà hanno cominciato a vendere Terna anche un po' prima che facesse i margini Terna lo stanno vendendo dal 13 di novembre poi è salito ancora però hanno cominciato a venderlo a distribuirlo quindi i livelli di ingresso io direi di seguire con attenzione 7,36 mi posizionerei un allarme su quest'area di prezzo poi un'altra area di prezzo molto importante è 7,21 circa anche qui vediamo se ci arriva e come ci arriva perché il titolo prendendo anche una sequenza minimo del 3 ottobre minimo del 29 novembre sta lavorando in un'area di supporto molto importante che è 7,46 i due supporti di prima li conserviamo 7,36 e 7,21 e mettiamoci anche un eventuale allarme di brevissimo in un'area 7,46 e 7,47 per vedere se una trendline che ho tracciato adesso tiene a mio parere una trendline che va dentro a costruire un canalino molto stretto quindi qui potrebbe esserci in caso di ulteriore approfondimento delle discese che stiamo vedendo da qualche giorno un incremento di volatilità e se si incrementa la volatilità sono titoli abbastanza robusti però magari potrebbe fare qualche strappa di basso e invalidare questi livelli per cui lo aspetterei un po' più sotto ecco sinceramente non vicinissimo lo lascerei un attimo fare caro il nostro Giovanni Lapidari siamo arrivati al termine uno mi dice sei il fratello di Camiccioli di Sky che non avevo ben presente chi è però ho visto la foto sì però quello è decisamente più fico di me siamo noi nel nostro guazzetto della finanza questi sono tutti social 60.000 follower io manco ce l'ho Instagram quindi senti dai Giovanni ti devo fare i miei auguri di Natale caro Giovanni e ti faccio anche i miei auguri di buon anno e ci vediamo l'anno prossimo con me ma tu sappi che la settimana prossima invece ci sei con la redazione ovviamente ovviamente torno dalle vacanze che non farò per stare a parte scherzi tre secondi i miei auguri sono totalmente replicati a te a tutti i tanti colleghi che sono su classe che conosco e faccio tanti auguri ai nostri telespettatori che hanno la pazienza di ascoltare la mia ben nota incapacità di essere sintetico e ci hanno fatto compagnia e ci hanno dato tanti spunti io personalmente mi sento dove loro non sono un augurio ma che è un grande segno di gratitudine perché sono importanti anche per farci tenere sempre gli occhi aperti per crescere professionalmente grazie mille ancora Giovanni buon Natale grazie arrivederci allora terminiamo qui la fascia trading e l'analisi tecnica a seguire l'aggiornamento news oggi finiamo prima perché ho due growth da fare in particolare uno il primo me l'avete indicato voi che sono quelli di Growens che vengono a raccontarci un po' di tutta la loro situazione e tutte le varie operazioni che hanno in ballo il secondo invece è una novità e sarà una neocotata e non vi dico perciò chi sono perché ve li presento poi quando li conosciamo pausa aggiornamento news e poi torniamo a Grazie a tutti.